Firmato a Terni, la prefettura, il protocollo di legalità per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare nella ricostruzione post terremoto che contiene le azioni e gli impegni per la tutela e la regolarità di tutte le attività della filiera della ricostruzione nei comuni ternani colpiti dalla sisma del 2016. Obiettivo prevenire fenomeni quali il lavoro nero, ma anche sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata. Il documento è stato sottoscritto fra gli altri dalla regione Umbria, dalla provincia di Terni, dai sindaci delle cratere, da IMSS, INAIL, Ufficio per la ricostruzione Umbria, Ance Terni, Fillea CGL, Filca CISL e Feneal Will.